Cosa mi tocca fare per fare un video Dai fammi sta cosa che non mi piace Vabbè dai Salve a tutti ragazzi Io sono Digic Io sono la macchina gamer E oggi Guarda caso Cosa che non paravo più sul canale Sono in gameplay Sono a casa Da questo qua Che l'altra volta è venuto lui da me E oggi ho detto Eh vado io da lui Niente Stiamo per fare una Partita locale A Game of Warfighter Z Allora qua Così pochi sono Questo è tutto Quasi tutto il roster Qua manca C21 Dove c'è questo Ah beh poi si sblocca A fine della cosa C21 Ma io sono io Il numero uno Wow Posso prendermi Wow Black yoke Io prendo il passaggiano 2 Mi prendo Ah perché Quanti disegno ne prendo 3 le puoi scegliere Allora mi faccio la spara malvagia io Che sono una persona buona Kid Bu Ehi Non è che c'è niente da dire Il pagliaccio E' una squadra di Saiyano Ti sei fatto Sì La squadra di Saiyano è quanto? Premi Ti metti i punti integrativi Casuale facciamo Quella che esce Vabbè lo so Ci sta Ci sta Eh se te lo puoi sentire Eh ascoltiamo la canzoncina Squadra rossa Squadra blu Ma che tecnica Squadra blu Io E' sempre rosso il joystick Oh scrivete nei commenti Chi è chi vincerà questa partita Io Io non ci ho mai giocato Io non ci ho mai giocato Per fare le combo sono guardato Solo triangolo Per fare le mostre Sì 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 Così Ma che Così fai le mostre Con le mostre Con le connette Non ti preoccupa Dai siamo pronti Guardalo Ah così vai Ok Oh ma davvero in te Io non so giocare No già ho deciso No 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 Non può essere Vabbè c'è vegetale Vabbè ho visto Cos'è con le animazioni Oh ma se vuoi scherzare Non so giocare Dove prendere questo magico Ti hai premuto L1 o R1 Ma affanculo dai Cioè mi stiamo sento confondere Ma che cacchio Dai Io non so come si fanno Prima te stai a casa Ah vabbè Lo sono guardato solo piango Il concerto mi fai spazzare via No Ma pure tu si attesa Vabbè No a me l'ho ucciso Cioè mi è rimasto solo vegetale Dì già Ma tu si fai Fiacchi sono queste persone Io non so giocare No se tu che mi stai Marducato animo No Mi ho mortucato l'animo Io manco guardato Tardine Vabbè Cosa mi dici di questo Colore di capelli Ma mi sei guardato Ma puoi caricare Laura Vabbè ma che me ne faccio di Laura Non mi serve Non mi serve Oh no Mi sta ricominciando A fare uno sconto Cioè ci ho fatto caso Che è spuntato vegeta Perché è spuntato trans No 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 Come si fanno le Così Mi farei una mezz'alonetta Fammi provare un attimo Però fammi la buttare Uno che è troppo Andato fuori l'asteroid Il 130 si vola No Non è questa Vabbè Sì Giochi Aspetta Fammi caricare la roba Caricare la roba Che si è qua d'alto Ma mi vede se qui riesce Sono paura No non è questa Questa No 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 Mi schiena Chi busta No ma no Resisto Non muore Mi schieno Ah no Due te ne sono chiamate Vabbè Tu non ci fai subito A spingermi La sotto Ma certo Ma guarda Ma qua Caglio Non c'è 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 Ma è rimasto solo Pitto 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 Palla Parchetta Allora prima ho avuto solo culo Come si dice Fortuna nella vita Forse so Ah tu fai nel flash Io non le so fare le mostre così Te l'ho detto Devi fare la mezzanuna Così Uno e subito E due uno Quello Così Dai guarda Hai visto Ah Non l'ho capito Vabbè sta volta vinto Una a una raga Oh Questa è la bella Dai Ma dettagli Dettagli Sono sono che si muovono Durante l'editing Dai che sei Sì Mangio le arancine Sì Super Saiyan è diventato Vero Che se li si poteva sponmare In Super Saiyan E Nappa guarda Con il Kaioken Non è vero C'è un Nappa con il Kaioken No Allora è il Super Saiyan Però Nappa mi viene Non c'ho mai giocato con Nappa Ma manco io come sei Lei è la prima volta che sto giocando qua Sì Ma che è Tutti il Lion Sì Con Mettra che tu Se non attacco Con R1 e L1 Ti puoi farei venire entrambi Ti è matti veloce E ti sponda Pecati sul corpo Tanto questa è l'ultima sfida Sappi PUM Nooo Devo farti la mossa suprema con lui Vabbè dai Com'è che si caricava Laura? X quadrato Aspetta un secondo Fammi caricare X quadrato premi Ma si caravano troppo veloci Nooo Non ti ho preso Non so Non ti ho preso Cioè Da notare come ti ha colpito con quel cazzo Non ancora l'ho visto Regato Oh Ma che Oh Nooo Dov'hai scrive quando mi serve No Lasciano morire No 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 dove hai fatto questa è nuova No no che è nuova è nuova Io sto morendo qua Non va bene Tale Ora me è morto Distruzione totale Va bene Niente Diciamo che è esagerato un pochino Forse Sembra un topo Ciao Ma che è bello Ha cambiato scenario Ti dico che sono la tecnica della motelazione del corpo Non sei sul palo Nooo Ma mi dai il tempo Tutto panzone No è perfetto no 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 Distruttiva Con cui tu è distruttiva Non ho capo Con cui sei distruttiva Cazzo a cazzo Non mi do Me do tempo Ma c'è un burrosso Non si può vedere Va bene dai Vi raccomando appunto di iscrivervi da questo qua Che è molto arrivare Non mi sento a scrivere nessuno da me Sono povero Iscrivetevi da lui E niente Se vi è piaciuto Ovviamente mettete un mi piace qua sotto E commentate se volete appunto Altri video così Se volete gameplay stupid Come questo Che non è serio per niente Qui da Dijic E da Loki da Gamer E tutto E ci vediamo Qui Come sempre In un prossimo video Dio Paolo Tornato tu Ha 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 ha